ciao posso giocare no non tanto non ci riesci si che ci riesco no si che si per favore posso giocare ti ho detto di non toccarmi con quelle cazzo ti do una ginocchiata in faccia che segnato non mi fa giocare digli cosa perché non lo fa giocare il bambino no tanto non ci riesce a giocare in due a quel gioco quando ti comparti così sei più bambino di lui è un bambino dai e poi tu ce l'hai sempre ci giochi tutti i giorni ci puoi giocare quando vuoi